Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming, buongiorno, quest'oggi voglio parlarvi di questi cuffioni Corsair che mi sono stati gentilmente offerti per questa recensione. I cuffioni da gaming Corsair hanno un costo di 100€, lo so, magari può sembrare un prezzo esorbitante ma vi assicuro che queste cuffie valgono fino all'ultimo centesimo speso. Le cuffie, come vedete, hanno un padiglione, diciamo, anzi i padiglioni perché sono due, imbottitissimi, come vedete. Sono davvero imbottiti, comodissimi da indossare, realizzati con materiali di altissima qualità e si adagiano perfettamente alle vostre orecchie, cioè sono davvero grandi, come potete vedere. Sicuramente la vostra preoccupazione è, ok, sono grandi, sicuramente avranno un peso, diciamo, esagerato. Vi assicuro che non è così. Anche se la dimensione, diciamo, di ogni padiglione, quindi la dimensione complessiva di questo paio di cuffie è, diciamo, grande, vi posso assicurare che non sono pesanti. Hanno il loro peso, questo sì, non sono, diciamo, peso piuma, come si suol dire, ma non sono pesantissime. Non sono, diciamo, pesanti in modo eccessivo. Si adattano perfettamente alla vostra testa e non incidono, appunto, sulla stessa con il peso. Sono realizzate con materiali di altissima qualità, imbottite sia per i padiglioni sia nella parte superiore, quindi l'archetto. Potete, diciamo, indossarle comodamente per tantissime ore. Parlando di longevità, le cuffie hanno una durata di ben 16 ore con una sola carica e funzionano attraverso la connettività wireless. dovrete collegare questa chiavetta, la collegate al vostro computer per sincronizzare le cuffie e se avete Windows 10 potete farlo autonomamente, quindi non dovete andare a cercare i driver, scaricarli, installarli, eccetera, eccetera. Fa tutto da solo, quindi una volta che avete collegato questo pendrive, questa chiavetta, e accese le cuffie con questo pulsante che dovete tenere premuto, le cuffie si autoconfigurano e potete utilizzarle fin da subito. Come vedete si accendono i loghi di Corsair in modo alternato, quindi diciamo in modo dinamico più che altro e il logo di Corsair cambia, appunto, la colorazione in modo dinamico, quindi a distanza di pochi nanosecondi, scusate, cambia colore. E in più avete questo LED sul microfono che è acceso o spento a seconda dell'utilizzo del microfono, quindi quando vi posizionate così il microfono è attivo, quando vi posizionate così il microfono è spento. Naturalmente potete anche silenziare il microfono in qualsiasi momento premendo questo pulsantino, quindi diciamo ogni volta che magari volete silenziare il microfono premete questo pulsantino e il gioco è fatto. Tramite la rotellina che trovate in basso invece potete, diciamo, regolare il volume, mentre con questa, diciamo, porta USB avete la possibilità di ricaricare le cuffie con il cavetto che naturalmente trovate nella confezione. Le cuffie sono compatibili con PC barra PlayStation 4, sono davvero comodissime, hanno un surround 7.1 per quanto riguarda l'audio e il microfono multidirezionale. Sono realizzate appunto con materiali di altissima qualità, memory foam, come si suol dire, e sono estremamente comodissime, sono in grado di isolarvi dall'ambiente circostante e allo stesso tempo forniscono un audio chiaro e pulito per quanto riguarda la comunicazione. Se siete interessati all'acquisto di queste fantastiche cuffie potete trovarle su Amazon ad un costo di ben 100€ che, come ho detto, valgono fino all'ultimo centesimo speso. Grazie.